Salve a tutti e grazie per averci invitato a partecipare al video nazionale. Noi siamo inizie padrone. Veniamo da Fabriano, la città della carta. E frequentiamo il liceo scientifico statale di Togolterra e di scienze applicate. La nostra fondazione di supporto è la Casa degli Sparmi di Fabriano, Pupro a Montana. Io sono Fabio Ruggeri e trattivo nuoto a livello domestico. Io sono Rebecca Pettinari e come passione canto e suono la chitarra. Io sono Elena Brugna e sono di Catanzia per la lettura. Io sono Vittoria McKittin e le mie passione sono di Scout e la montagna. Il nostro docente di riferimento è il professore Natale Dolce, che insegniamo asematica e fisica. E abbiamo deciso di chiamarci così perché è proprio come in Zepaperone. Puntavamo a dare i maggiori numero di soliti possibili, però la differenza di Zepaperone è un po' meno amare.